Pagine sportive per questo 9 settembre, beh, in apertura è doveroso celebrare l'impresa di Charles Leclerc, ferrarista, il pilota monegasco che ieri si è reso protagonista di una vera impresa a Monza, ha riportato alla vittoria la Ferrari dopo nove anni sul circuito italiano e Leo Turrini lo celebra nelle colonne della Nazione, 21 anni, si ripete, trionfa Monza con la Ferrari, si ripete perché aveva vinto anche nell'ultimo Gran Premio a Spa in Belgio, il piccolo principe è stato ribattezzato, il fenomeno è tra noi, scrive Leo Turrini, finalmente e di nuovo ce lo abbiamo noi ferraristi, si chiama Charles Leclerc, quello che ha combinato ieri a Monza entra di diritto negli annali dell'automobilismo, perché continua Turrini, tra i giornalisti più esperti in tema di motori, non starò a farla tanto lunga, dice da Niki Lauda in poi io gli eroi della Formula 1 li ho visti tutti, da Villeneuve padre a Schumacher, passando per Senne, per Prost, fino alla generazione di Hamilton e Vettel, come dire, fidatevi, fidatevi del mio giudizio. Anche il messaggero nella d'orso nazionale, capolavoro Leclerc, tifosi in delirio, trionfa Monza dopo nove anni, vani gli assalti delle due Mercedes, mentre è stato doppiato Vettel, davvero quest'ultimo in caduta libera. Colpo grosso il titolo dell'inserto sportivo QS della Nazione. Il messaggio, intanto, fa vincere la Ferrari Leclerc a Monza dopo nove anni, è lui l'uomo del futuro, che può riportare il cavallino davanti a tutti. All'interno uno speciale fenomeno Leclerc, con l'uomo che fa la storia, ancora il fondo di Turrini. Il precedente, nel 1996, la prima stagione in Ferrari, Schumi vinse in una settimana. Proprio questi due gran premi, Spa e Monza, così la Ferrari si riprende Monza. Curiosità Umbra, gli augubini soprattutto avranno notato, come ieri all'arrivo vittorioso di Leclerc, a sbaglierare il drappo a scacchi, c'era il direttore di gara dell'autodromo di Monza, ovvero l'augubino Fabrizio Fondacci, che sicuramente può ben dire di aver assistito, oltre ad aver organizzato, ma aver assistito a una gara storica per il suo esito. Piero Ferrari, uno come Charles, piacerebbe tantissimo a mio papà. E qui una carrellata di dichiarazioni nel dopogara. Mattia Binotto, da Ferrari ascoltare l'inno di Mamelli sotto il podio, è stata davvero un'emozione fortissima. John Elkham vince a Monza il regalo più bello che potessimo farci per i 90 anni del cavallino. Cavallino, e qui le pagelle di Turrini, ovviamente un 10 tonda Leclerc che ha Binotto. Domenica 22 si torna in pista a Singapore, poi c'è la Russia, 200 mila tifosi in una giornata da incorniciare. Parla anche il presidente del CONI Malagò, che spettacolo il cavallino, anche se l'automobilismo non è, come dire, materia olimpica. E per restare invece a tema internazionale, ieri in campo anche la nazionale di Mancini, che ha trovato la sesta vittoria su sei nel suo girone, ormai un passo alla qualificazione matematica agli europei, cosa da non dare per scontata, visto che l'ultima competizione l'abbiamo cannata clamorosamente. Mancini ritrova anche immobile, Giorginio firma l'ingresso nell'Euro, titola la nazione, finisce 2-1 in Finlandia, proprio con i gol dell'attaccante della Lazio, del centrocampista del Chelsea. Sì, questo per la cronaca internazionale, sportiva. Veniamo alle pagine di casa nostra, il Perugia non ha giocato in campionato, fermo proprio per la sosta delle nazionali, tornerà sabato prossimo, ma intanto Oddo all'imbarazzo della scelta, titola il Corriere, il tecnico dispone di una rosa profonda ed utile per puntare in alto i biancorossi, che hanno disputato un amichevole con la Fiorentina venerdì, sono al completo per la prima volta e mettono nel mirino la Juve Stavia, prossimo avversario. Intanto Capone, Azzurrino con l'Under 20, gol elastist contro la Polonia. Andiamo a vedere le due squadre professionistiche in campo nel weekend, in Serie C la Ternana rende, gioco di parole, Blitz in Calabria ed è solo in testa, terza vittoria su tre gare per le fere in completo grigio, ma è tutt'altro che grigio ha la classifica, Gallo non nasconde la felicità, abbiamo già un'idea di gioco, dice il tecnico, bravi a non disunirci. Dopo il gol degli avversari, è finita 2-1 con le reti di Partipilo e di Salzano su rigore. Russo ancora tra i migliori, Torromino manca il colpo del K.O., Ferrantesciupa, ma è decisivo. Chi si salva in estremi se è il Gubbio, a Vicenza con l'Arzignano, Gubbio a fatica, l'Arzignano sbatte sui pali, almenti i rosso-blus soffrono contro la matricola, per sbaffo e compagni arriva un punto prezioso, grazie a Cesaretti che replica i gol di Maldonado, anche complice, come dire, una interpretazione errata del portiere Ugubino. Nel finale i padroni di casa colpiscono due legni, Notari tuona e dice, ci hanno preso a pallonate, tutt'altro che soddisfatto per questo pareggio, e anche Guidi ammette molto meglio loro, dobbiamo essere più cattivi, teniamoci il punto. Ravaglia impreparato sull'1-0, sbaffo predica nel deserto, Mugnoz e Meli mai in partita. Ne parleremo stasera a fuorigioco, con Roberto Minelli, Giacomo Branco e i suoi ospiti, tra questi il difensore del Gubbio Conatema, intanto con l'ausilio della regia, andiamo a vedere proprio gli highlights di questa gara, giocata al Menti di Vicenza, contro la matricola Arzignano, in completo giallo, in particolarità Arzignano, che non aveva subito gol fino a questo momento, reduce da due pareggi, entrambi per 0 a 0. In apertura un attacco a metà del primo tempo del Gubbio, colpo di testa di sbaffo piuttosto telefonato, centrale, nessun problema per il portiere, un minuto dopo ci provano anche i Veneti, senza inquadrare la porta, Gubbio che come vedete subisce nella prima parte della gara, qui una conclusione dal settore di sinistra, che è stato il più martellato dall'Arzignano, che termina di poco alto, conclusione invece senza pretese dal limite dell'area, ancora facile preda di Ravaglia, Ravaglia che tornava in porta dopo non aver giocato in casa, al suo posto Zanellati, un tiro cross di sbaffo che non trova però alcuna collaborazione, qui c'è il calcio di punizione, da cui nasce il gol del vantaggio del Arzignano, con la complicità del portiere, palla che balza, ma Maldonado non aveva tirato di quelle conclusioni imparabili, e invece Ravaglia si fa uccellare, come avrebbe detto il mitico Gianni Brerra, di cui si festeggiava ieri il centenario della nascita, si fa uccellare in maniera piuttosto banale, e il Gubbio va a riposo sotto di un gol, con un tempo per recuperare. Nella ripresa prova a cambiare un po' le carte in tavola il tecnico e Gubbio, entra Sorrentino, entra Cesaretti soprattutto, e sarà questa la mossa più importante, ma l'Arzignano ci prova ancora qualche incertezza per Ravaglia, e il Gubbio aumenta la pressione, di testa ci prova, ma non va Mugnoz, ancora Arzignano pericoloso al 62esimo, con una conclusione dalla distanza, che sorbola alta sulla traversa, finché non arriva il pareggio, sul traversone di sbaffo, questa palla in aria, sulla quale Cesaretti è un falco, e riesce ad anticipare difensore e portiere, spizzando con la punta del piede in fondo al sacco, gol pesantissimo, che vale il primo punto del Gubbio in trasferta, forse nella più opaca delle prestazioni finora, perché a Trieste, nonostante la scompitta, il Gubbio aveva giocato decisamente meglio, ma il finale è tutto in sofferenza, qui guardate Ravaglia, che va a, come dire, un po' a funghi, in mezzo all'area, fortunatamente non trova la porta, l'attaccante di casa, conclusione invece senza grosse pretese, sull'altro fronte, finale come detto a denti stretti, in sofferenza per il Gubbio, qui rischia su calcio d'angolo, due tra l'altro gli ex della gara, Cais e Valagussa, uno di questi troverà il palo nel finale, questo è il primo legno, poi sulla ribattuta spreca clamorosamente, davanti alla porta, l'avanti Veneto, si tratta di Amatori, e poi ancora il legno che salva il Gubbio, con nel finale un'altra occasione per l'Arzignano, Gubbio che prova a tirar fuori la testa da questo forcing, sul calcio d'angolo qui, poca fortuna, ma anche poca cattiveria possiamo dire, in questa occasione all'interno dell'area, e ancora il legno che dice di no, stavolta l'ex Valagussa, salvando in estremis i rosso-blu, finale come detto al Cardiopalma, ma dopo 4 minuti di recupero, arriva il triplice fischio, che sancisce l'1-1, qui ancora un brivido sulla conclusione deviata sul palo, davvero fortunato dobbiamo dire il Gubbio in questo caso, sarebbe stato sfortunato l'autogol, ma insomma la fortuna di avere i pali come complici, è un buon segno diciamo così, dopo 4 minuti squadre a far la doccia, ma come abbiamo letto, notari davvero molto molto contrariato dalla prestazione dei rosso-blu, andiamo a vedere ora la nazione, Grifo in testa, è la squadra più giovane della B, titola il quotidiano fiorentino, il club di Piani Massiano ha scelto ancora la linea verde, l'attacco è il reparto più maturo, Ternana-Corsara, è la terza vittoria di fila, Partipilo e Salzano su rigore, le fere stendono il rende, volano al primo posto, Gallo dice bene così, però dobbiamo migliorare e deve migliorare soprattutto il Gubbio, Cesaretti entra e firma il pari, Gubbio che ricordiamo torna in campo sabato sera, nell'anticipo della quarta giornata, con il Fano al Barbetti alle 20.45, rosso-blu vanno sotto, poi rispondono con l'attaccante, padroni in casa fermi al palo, errori e fortuna, dice Guidi, è mancata l'aggressività, meritavano più gli avversari, ci serva da lezione, questo per la Nazione, chiudiamo la carrellata con le squadre professionistiche, con il messaggero, Grifo la gioventù al potere, nonostante il mercato da big, la Rosa del Perugia capolista è la più giovane di tutta la B, oggi la ripresa in vista della sfida con la Juve Stavia, l'emozione sincera di Diego Falcinelli, tornato a vestire la maglia bianco-rossa, mentre Mocarelli resterò sempre un tifoso del Perugia, bravi Goretti e Santo Padre, speriamo, dice l'ex centrocampista bianco-rosso, sia la volta buona per tornare in Serie A, Ternana capolista solitaria, lancia il guanto di sfida al campionato, per la verità, con i dovuti scongiuri dei tifosi rosso-verdi, anche l'anno scorso era partita benissimo, poi è clamorosamente ciccato, ma l'impressione che quest'anno non sia la stessa squadra, e soprattutto il manico, sia decisamente più significativo, importante nell'impatto con la squadra, batte in trasferta e rende, conquista la terza di fila, Lefer in campo con una nuova maglia dedicata alla cascata delle marmore, e direi che la cascata di vittorie sta funzionando, dopo la strigliata di Galli e i rosso-verdi cambiano passo, nella ripresa arrivano il gol di Salsano, che vale i tre punti, defende un ringiovanito, parti Pillo, la classe c'è, partita non facile, commenta il mister, bravi ragazzi, Gubbio invece, Cesaretti entra e salva addirittura la panchina di Guidi, secondo il messaggero, che già vede traballante la posizione del tecnico, Gubbio che ha già cambiato 5 tecnici negli ultimi due anni, insomma speriamo non vada in cerca di record, perché direi dopo aver cambiato praticamente tutta la squadra, crediamo che prima di cambiare anche di nuovo l'allenatore, ci si debba pensare un attimino, andiamo a vedere quello che accadrà comunque anche a Gubbio, ne parleremo come detto stasera in fuori gioco, con Roberto Minari e Giacomo Branco, tra gli ospiti appunto il difensore rosso-blu con a te, e ora che parliamo di calcio dilettanti, avremo in studio una delegazione del Branca, che era esordito con una grande vittoria, che vissa quella di Coppa, in campionato per 4 a 3, ma intanto in Serie D, stecca il Foligno dopo la vittoria in casa di domenica scorsa, che sfortuna Grosseto, Magrini esulta, Lamberto Magrini grazie a Moscati, in gola al quarto della ripresa, Masticamaro Armillei, che dice avremmo meritato di più. E poi il Trestina sbanca invece Montevarchi, Kribek firma il gol decisivo dopo un rigore di Belli, parato dal portiere Monti, terza sconfitta per i padroni di casa, contestazione degli Ultrasignorelli, tre punti d'oro, bravi a colpire al momento giusto. Cannara, giornata da Incubo, perde 3 a 0 proprio con la squadra sconfitta dal Foligno, il Sandonato Tavernella, doppietta per l'attaccante Zuppardo, ex Gubbio, oltre che tante altre squadre Umbre, per gli ospiti solo qualche sortita di Del Sante e De Santi. Se infine il Bastia, che invece muove la classifica dopo il pesante 5 a 1 interno, parte col pari il nuovo corso di Ortolani, biancorossi che soffrono nel primo tempo, subendo il pressing, nella ripresa entrano in campo, e strappano l'1 a 1 con la rete di Bolletta. Eccellenza, ieri prima giornata, sì Castello del Piano, Menichini fa centro, il Tamba non ci sta, 2 a 0 sull'Orvietana, mentre il Ponte Valleceppi, palla match al vento, 0 a 0 con l'Assisi su Basio. sempre dall'eccellenza, Borgo, Sansepolcro, primo scoglio superato, lo scoglio è quello lacustre del Trasimeno, vince in trasferta la squadra bianconera, col gol di Valori, Bricca e Sincero, portiere supera, noi molto cinici. Solo due legni per la nuova Ducato, il Gualdo Regge si prende il punto, a Spoleto, la Nestor trova sulla sua strada uno Spoleto fresco, sono 2 a 0. intanto Lama sulle ali dei giovanissimi, batte nettamente l'Ellera, Salsiccia, Salsiccia, scusate, Di Cato e Landi in gol, mentre la bella storia di Kunzi, che torna dopo il tumore, vola e vince in casa, Narnese che batte l'Angelana di Sandriani, per 2 a 1. E siamo alla promozione, Branca, macchina da gol, all'esordine ha fatti 4 al Mugnano, dopo averne fatti 4 anche in Coppa, 3 punti per iniziare, Caporali serve più equilibrio, ovviamente i 3 gol subiti, destano qualche preoccupazione, ma finché se ne fa uno in più va bene, segnano Giambi, Montanari, Bellucci e Marco Gaggiotti, intanto l'FC Castello ci pensa subito, Ceppo Domo, batte 3 a 0 la Pievese, mentre Malucai, Palazzoni e il Pitbull Bececco, regalano i 3 punti al Piccione, sulla Pietralunghese, Ponte di Iotta, Castelletti piega il Mantignana, Ponte Vecchio che batte, la formazione ospite, mentre al 92esimo spunta Rocco Bartolo, Tiberis al tappeto con il Montone, e poi Marra San Feliciano parte col piede giusto, e vince sul campo del Selci Nardi, andiamo a vedere ora anche le altre discipline sportive, partendo dall'automobilismo, non c'era solo la Formula 1 ieri, Fattorini, Cala e il poker in casa, Orvieto, quarto successo dell'Orvietano alla Castellana, duello trailing col Veneto Zardo, Bassi Quinto, Manni Sesto, Urbani Settimo, Decimo Ferretti, nella gara in salita orvietana, una Perugina in finale agli europei, Vagni arbitrato Serbia-Turchia, ieri vinta dalle Serbe, solo al tie-break per 15-13, ancora soddisfazioni per i fischietti Umbri, Podismo, Mezzetti e Salvatori, padroni ad Assisi, hanno concesso il bis alla marcia delle otto porte, dopo la vittoria lo scorso anno, Cipolla di Cannari in corsa, sulle linee del traguardo, sorridono Marianelli e Dejana, questo per il Corriere dell'Umbria, che lasciamo definitivamente, andiamo alla Nazione, ripartendo dal Foligno beffato, pesano gli infortuni, capò in trasferti, i falchetti si arrendono a Grosseto, decisiva la rete di Moscati, inizio ripresa, tanta sfortuna, c'è mancato solo il gol, alzano Bagliera Bianca, Pinzaglia e Arras, per problemi muscolari, gara di Bologna-Aventura, dura mezz'ora, insomma, come dire, un lazzaretto, potremmo dire, lo spogliatoio Folignate, Cannara travolta a Tavernelle, Bolletta invece allo scadere, regala il pari al Bastia, la Trasimeno spreca, allora passa il Sansepolcro, nella prima di eccellenza, mentre Ducato, Guardo, Casacastalla, sorridono solo le difese, la Narnese non molla mai, Angelana ribaltata al 92esimo, ospiti avanti con Gambini, poi Bagnate e Leonardo, guardi ribaltano, San Venanzo buona la prima, in promozione, ottimo esordio per il team di Turchi, mentre nella pallavolo, Sirsefti avanti tutta, occhio all'europeo, tanti giocatori di Perugia, saranno protagonisti, la Bartocini nel femminile, scaldemuscoli, la De Michelis dice, c'è entusiasmo, poi tanti servizi tra basket e podismo, per concludere, infine, con il messaggero, torniamo al Foligno, coi Cerotti, che cade a Grosseto, Pinzai, Arras e Bonaventura, vanno K.O., i Falchetti reggono un tempo, decide Moscati, inizio ripresa, Gorini su punizione, Peluso nel finale impegnano Barosi, Ruani tiene a galla i suoi, i padroni di casa colpiscono anche due pali, Arminei assolve la squadra, ci hanno provato fino alla fine, l'aspetto che mi conforta, nonostante la sconfitta, l'ex Magrini, dovevamo chiuderla prima, dice, Foligno squadra di categoria, Peluso ancora capace di fare grandi cose, e poi con il messaggero, andiamo a Bastia, Ortolani si prende un punto, mentre il Trestina fa bottino pieno a Montevarchi, che tonfo il cannara, Zuppardo, Giustizia, i Rosso Blu, sempre non perde il vizio del gol, l'attaccante, Spoleto senza emozioni, punticino per la squadra della Principessa Araba, dopo il cambio di panchina, 0-0 con la Nestor, e poi la favola di Kunzi, raccontata su tutti i quotidiani, subito in campo dopo la malattia, Anarnesi rimonta, batte l'Angelana, pallavolo sarà una sira affascinante, Piccinelli, il vice libero dei Block Devils, lavora al Pallabarton, con due compagni e ragazze della Bia, dice, tutto nuovo, è una bella sfida, intanto nel basket, la Val di Ceppo inizia Pesaro, c'è il derby tra Perugia e Sisi, il Foligno contro Falconara, la Serie C Gold, parte il 28 settembre, l'automobilismo a Orvieto, la Castellana trionfa a Fattorini, mentre le autostoriche, sfilano per sostenere Norcia, ed è tutto anche per la pagina sportiva e per questa nostra edizione della segna stampa di questo lunedì 9 di settembre, informazione che torna alle 13.30 con il TRG Plus e poi stasera dalle 19.30 i nostri TG, il TRG Sport e il TRG Plus, e a seguire, come detto, torna fuori gioco in diretta dalle 21.00, a parte mia è tutto, grazie, restate con noi anche sul sito trgmedia.it, a voi tutti, una buona giornata. Grazie a tutti,